Dall'arte per l'arte. È arrivata la dodicesima edizione, l'asta organizzata dal Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara per sostenere le proprie attività. Primo premio alla generosità degli artisti che mettono a disposizione le loro opere, ma anche a chi le acquista, regalando ossigeno al museo. Siamo ben alla dodicesima edizione e anche quest'anno sono ben 106 gli artisti che hanno voluto sostenere il museo con la donazione di un'opera. I proventi di questi quadri andranno appunto per aiutare le attività istituzionali della Fondazione Genti d'Abruzzo. Tra gli artisti spiccano nomi di livello nazionale come Piero Gilardi, Pep Marcheggiani, Max B e altri anche fotografi. Quest'anno per la prima volta abbiamo Giovanni Berengo Gardin che praticamente ha voluto sostenerci anche lui con una fotografia. Come si partecipa? Allora per partecipare quest'anno siamo tornati alla modalità dell'asta indiretta, quindi sarà possibile seguire l'asta sia direttamente qui nello spazio nella sala Favetta che sul portale di Ars Value. Infatti collegandosi e previa registrazione sarà possibile fare le offerte direttamente da remoto oppure all'interno della sala Favetta con una paletta che verrà data per la registrazione all'ingresso del museo. Infine ricordiamo la data e l'orario preciso. Sì, allora l'asta si svolgerà domenica 5 dicembre alle ore 18 appunto nella sala Favetta e sarà possibile visitare la mostra già da domani mattina con lo stesso orario del Museo delle Genti d'Abruzzo.